Il nostro lavoro è proprio quello di sciogliere la domanda come faccio io ad essere spontaneo, naturale, necessario, come poi accade nella vita quando ho in mano un testo delle parole che non sono le mie. La parola è il mezzo di comunicazione con cui io mi relaziono verso l'esterno e non si può dare per scontato quello che si sta dicendo, quindi il nostro lavoro sulla parola è un lavoro molto importante perché si centra proprio su parola per parola, come se la parola fosse la punta appunto di un iceberg e noi quello che interessa è proprio andare a capire cosa c'è dietro quell'iceberg. Io cerco di intervenire molto attraverso la musica perché la musica è il mezzo più immediato per entrare in relazione con il nostro intimo, con la nostra emotività. Noi viviamo l'attore qui come una specie di corpo cavo dove deve entrare appunto questa anima del personaggio, quindi è un lavoro molto intimo, un lavoro difficile che spesso ci mette anche davanti ai nostri muri. Si, prego, lasciate che io sia una cosa di nessuno, che io sia una di nessuno. Perché vorrei che tu ricostruissi un'immagine specifica.